Ci troviamo nella zona 5 Torri di Pesaro e precisamente nel parco di Via Scialoia dove alle mie spalle vedete tanti studenti della scuola primaria Rodari che stanno consultando, sfogliando una serie di libri che hanno preso nella Little Free Library la nuova casetta dedicata a una sorta di biblioteca libera a servizio degli studenti e non solo, che è stata inaugurata proprio quest'oggi nel parco. Si tratta dell'undicesima Little Free Library donata alla città dalla Onlus Gulliver. Questo è un progetto che prevede il filiale che arrivi a 50 casini nella città di Pesaro 50 che secondo noi, secondo l'amministrazione comunale, secondo l'assessore Vimini che è con noi in questo progetto porti alla città di Pesaro ad essere la prima città europea in base agli abitanti con più library nella città. Oggi inauguriamo l'undicesima in un giorno speciale, nel giorno del compleanno di Rodari. Questi sono dei libri che l'amministrazione ci ha donato per la casina. Le casine sono nei parchi cittadini o in luoghi accessibili al pubblico vicino alle scuole. La funzione è semplice. Nella casina vengono messi dei libri curati settimanalmente dalla Gulliver con dei libri nuovi. Chiunque, la mamma con il bambino, il nonno con il nipote, possa venire nel parco, prendere un libro, leggerlo sul luogo e portarlo alla casa. Poi se il libro piace può anche tenerlo la famiglia a casa. E noi con la Gulliver andremo sempre a rimpiazzare questi libri. Io ringrazio l'amministrazione comunale, ringrazio la Chiara Ferri, che è una delle nostre responsabili del progetto, ringrazio la Francesca che segue anche lei il progetto. Siamo un bel gruppo di volontari, ricordo 200 volontari. Abbiamo tre sedi a Pesaro, via Toscana, via Rossi e via Piazza Redi. E questo è uno dei tanti progetti della Gulliver che secondo me è meritevole perché veramente è di impatto con i bambini nel parco, con le scuole. È un progetto bellissimo che portiamo avanti con bellezza. È un progetto che mira proprio a questo, alla diffusione, alla promozione della lettura e del libro. L'idea proprio della library di portare i libri nelle famiglie e di far sì che la lettura diventi proprio uno strumento fondamentale per l'educazione e la cultura, credo che sia fondamentale. Per cui ci sembrava veramente una grande opportunità per i quartieri, per le famiglie che magari non possono raggiungere anche le biblioteche o non hanno la possibilità di acquistare dei libri, di poter prendere un libro gratuitamente e poter rifare entrare questi libri in tutte le famiglie della città di Pesaro. Gli alunni sono assolutamente entusiasti di partecipare a questo tipo di iniziative e anche alla condivisione, perché comunque si tratta di un'esperienza di condivisione di materiale proprio, di materiale che riescono a trovare qui nel parco, e di accesso libero per tutti. Quindi i bambini assolutamente contenti, ma anche i genitori, le famiglie sono disponibili. Questa non è la prima esperienza per il nostro istituto e abbiamo visto che è funzionale all'utenza, è comunque una buona promozione alla lettura e allo stare insieme, perché secondo me è importante anche questo.